L'avete invitato, è arrivata la risposta al Presidente Alberto Cirio, domani sarà da voi qui ad Alessandria. Sì, certamente siamo orgogliosi di questo importante primo risultato e dobbiamo dire grazie a tutti quanti perché siamo stati tantissimi a manifestare, è stato un grande successo nei numeri ma anche nella modalità, perché abbiamo dimostrato in una maniera pacifica e nel pieno rispetto delle legalità. Io sono convinto che se domani Cirio sarà presente ad Alessandria dobbiamo dire grazie a Sua Eccellenza il Prefetto perché ha capito la passione con cui siamo in piazza a manifestare ed è la stessa passione che mettiamo nel nostro lavoro. Sicuramente porteremo a Cirio i nostri punti, quelli che sono mai noti nel nostro manifesto, ma abbiamo già preparato anche quattro punti specifici che la Regione può risolvere nell'arco di pochissimo tempo. Gian Piero Amelio è un allevatore del territorio alessandrino, lei fin dall'inizio al fianco ovviamente dei suoi colleghi agricoltori a spronarli, a motivarli anche le fasce più giovani, quelle che hanno diritto ad avere un futuro nel settore primario. Che cosa chiedete? Lo è già stato ribadito in abbondanza, però questa PAC che ora sta andando di traverso? Beh intanto condivido con tutti gli altri le difficoltà del settore, quindi non è che siamo qui per caso, voglio richiamare solo l'attenzione su una questione, ma è successo negli ultimi decenni che tutta l'Europa, tutte le regioni italiane siano diciamo in agitazione comunque a manifestare perché c'è un problema trasversale. La questione dei contributi comunitari, che sono i due pilastri, la PAC e il PSR, uno è l'aiuto a reddito e l'altro invece è per indicare le trasformazioni. Noi agricoltori ci eravamo convinti che serviva per produrre il cibo a un prezzo più basso, erroneamente questa cosa qua, mentre invece alla fine della fiera il consumatore finale compra il cibo a delle quote molto maggiori rispetto a quelle che produciamo, solo che adesso è successo che ci tagliano i contributi comunitari e mettono in difficoltà tutte le aziende agricole, è tutto il settore, è tutti i cittadini, l'economia ma anche la salvaguardia del territorio. E poi c'è tutto il discorso legato alla qualità e alla conseguente salute. Beh la qualità se dovessi definire sono le caratteristiche organolettiche di un alimento che lo elevano in suo pari, detto questo noi in Italia produciamo con delle regole molto restrittive dal punto di vista dell'utilizzo dei fitosanitari, produciamo un made in Italy, un cibo che è altamente sostenibile ma anche che fa bene alla popolazione, poi succede che ad esempio la tracciabilità a livello della tracciabilità non viene classificato in modo corretto e quindi i nostri cibi a volte hanno all'interno altri prodotti. Quindi davvero noi tracciamo gli alimenti per il cittadino e alla fine della fiera questo non è garantito e questo va a discapito del produttore e del consumatore finale.